La ventesima edizione di Malazze, l'evento archeo-eono-gastronomico dei Campi Flegrei, ha disposto anche quest'anno la costruzione di un'offerta turistica competitiva che ha migliorato la qualità dell'accoglienza turistica a Flegrea. Uno standard di accoglienza che si ripete con rinnovata professionalità, nonché un ventaglio di eventi culturali e storici che lo rendono il fiore all'occhiello del turismo partenopeo. La manifestazione è andata molto bene, abbiamo avuto un ampio riscontro, per la prima volta, come ho detto in altre interviste, abbiamo avuto anche turismo internazionale, per la prima volta è capitato, soprattutto quando abbiamo fatto l'evento di apertura con il Tempio di Serapide, con questa teatralizzazione, per la prima volta, dicevo, due pullman dalla costiera amalfitana, prenotando, sono venuti nei Campi Flegrei per fare visita ai nostri erendi. E questo già è un dato molto, molto importante, che vuol dire che la nostra manifestazione valica ormai i confini nazionali e anche i confini internazionali. Si è presentata così la Kermess, che a Pozzuoli e dintorni rappresenta il primo pacchetto di offerta turistica integrata dei Campi Flegrei. Giorgio Albertazzi, che ha recitato Memorie di Adriano nello stadio Antonino Pio di Pozzuoli, l'apertura dopo duemila anni del Macellum Tempio di Serapide a Pozzuoli, il concerto di Pietra Montecorvino a Monte di Procida e la lettura delle neide di Peppe Lanzetta al castello di Baia a Bacoli. L'edizione 2015 si è inoltre caratterizzata per la mostra di Design Humans, Design for Food, curata nelle sale di Palazzo Migliarese al Rione Terra, dalla A di Campania e patrocinata dalla Fondazione Città della Scienza, da Slow Food Campania e dalla Seconda Università di Napoli. All'interno della rassegna è stata inoltre presentata la guida Slow Food, la presenza di una vasta platea e dei pizzaioli Enzo Coccia e Franco Pepe. A ottobre verrà un altro professore che sta studiando, non il fenomeno Malazzei, perché sarebbe troppo, ma sta studiando Malazzei e Campi Flegrei e ritiene che l'esperienza di Malazzei, soprattutto, sia in linea con manifestazioni importanti che si sono in giro per l'Europa. Soprattutto viene connotata come un buon esperimento di buone pratiche che è partita dal basso, senza un aiuto importante, ma che ritiene che queste esperienze fatte all'estero, dove in realtà la politica e la governance molto spesso è assente, anche in questi casi possiamo dire che Malazzei rappresenta un buon esempio e a ottobre avremo questo workshop proprio all'interno di Malazzei in cui parleremo di questa esperienza nata dal basso, in un territorio molto difficile come sono i Campi Flegrei e come sono in realtà il sud Italia. Quest'anno Malazzei si è inoltre arricchito di un concorso fotografico premio Campi Flegrei dal tema Terra Madre, colori della terra, a cura di Flegrei a foto, la cui giuria, composta da Antonio Biasucci, Chiara Reale, Enzo Buono e Francesco Soranno, ha premiato ex equo Maru Cangemi di Napoli e Giorgio Cappiello di Casapulla di Caserta. Si è tenuto invece per il terzo anno La Grande Abbuffata, concorso di cortometraggio a tema enogastronomico che ha assegnato il premio come miglior cortometraggio a Primera Comunion di Chiara Sulis e la menzione speciale ha il quaderno di Valentina Capone.